Primo giorno di screening di massa, primo giorno di tamponi rapidi, gratuiti e volontari predisposti dalla Regione Marche fino al 23 dicembre. Si comincia a Pesaro e a Urbino così come in tutti i capoluoghi di provincia marchigiani. Qui ci troviamo all'alberghiero Santa Marta, la scuola superiore che è stata designata come uno dei tre luoghi deputati a questi test medici per la città di Pesaro. Qui si sottopongono a test rapido i cittadini residenti al centro, al mare e nei quartieri di Montegranaro e Muraglia. Sono circa le 10 e mezza di questa prima giornata di tamponi e qui all'alberghiero ci sono circa 50-60 persone in fila in questo momento, tra quelle che vedete qui all'esterno e quelle che sono diligentemente in fila all'interno. C'è chi si presenta naturalmente con il modulo prestampato da casa, modulo scaricabile dal sito della Regione Marche o dal Comune, ma altrimenti ci sono i volontari della protezione civile che hanno predisposto un banco con i moduli pronti da compilare all'interno. Sta andando bene, i volontari sono impegnati anche questa volta per un'attività a favore della collettività. Siamo qui dalle 7 e gestiamo la parte organizzativa prima del tamponamento. Ad oggi, in questo momento, sono stati tamponati un centinaio di volontari e sono le 10 e proseguiamo nella nostra attività. Io credo che sia importante. La Regione Marche ci mette a disposizione una cosa molto, ma molto positiva. Penso che sarebbe stato sbagliato non usufruirne e soprattutto perché nel caso in cui delle persone, come potrei essere anche io, siano completamente asintomatici, lo verremo a sapere perché io comunque vado a lavoro, vado a fare la spesa. Sto bene, ma se sono asintomatico è giusto che io stia a casa e rispetti anche tutte le persone con cui sono a contatto generalmente. È stata una bella opportunità e sono contento di questa iniziativa, almeno sappiamo se stiamo bene, se stiamo male. Io non ho mai fatto niente, sono stato sempre bene, non ho avuto né febbre, mai febbre e via. Adesso c'è questa possibilità di farlo e sono contento di averlo fatto. In effetti noi sintomi non abbiamo mai avuto, non abbiamo avuto neanche dei grandi contatti, almeno per ora, con persone che sono state malate, però appunto da un punto di vista statistico penso che sia importante. Noi stamattina abbiamo fatto un giro in bicicletta, siamo venuti a vedere ed è stata rapida la cosa tutto sommato. Mi sembra che non ci siano state neanche, non abbiamo avuto dei lunghi tempi per aspettare, quindi facciamo volentieri. Io sono arrivata sia alle 9 e tre quarti, anzi anche 10, quindi per far tutto ci abbiamo messo meno di un'ora. Prima so che c'era più gente, quindi consiglio di non arrivare proprio alle aperture, perché hanno bisogno di organizzarsi. Il tampone era negativo, quindi tutto bene, molto ben organizzato la parte iniziale, con qualche problema per poter avere la risposta, perché quel quarticello di attesa ci vuole e in quel passaggio avanti e indietro in un corridoio stretto, tra chi attende e chi deve uscire. Insomma mi è sembrato un po' che questa cosa possa essere migliorata, però ottima iniziativa. Affluenza simile qui al liceo scientifico Marconi del campus scolastico, un altro dei tre luoghi predisposti a questi tamponi di massa, luogo in cui vengono i residenti di Pantano, delle Cinque Torri, di Santa Veneranda, di Novilara, di Candelara, di Monte Ciccardo e di Villa San Martino. Qui ci troviamo nello spazio riservato alle persone che hanno già effettuato il test. Periodicamente un'infermiera arriva con i risultati, liberando le persone negative al test. Per quelle invece positive c'è un apposito ambulatorio in cui si viene immediatamente sottoposti a tampone molecolare e scatta l'isolamento fiduciario. E circa mezzogiorno ci troviamo ora alla Vitri Frigo Arena, la terza postazione prevista per questo screening di massa a Pesero. Qui vengono a sottoporsi al test i residenti di Villa Fastigi, Villa Ceccolini, Vismara, Cattabrighe, Tombaccia, Torraccia, Soria e Borgo Santa Maria. E in questa occasione abbiamo potuto ascoltare anche il parere del direttore dell'area vasta 1, Romeo Magnoni. Ho girato tutte e tre le postazioni, stanno andando abbastanza bene, mi sembra che i cittadini per lei sono molto disciplinati, stanno in fila senza far casino e quant'altro. Quindi capiscono l'importanza del problema, li ho ringraziati perché bisogna ringraziare anche loro, perché il fatto che si sottopongono in maniera volontaria, ricordiamo che volontario, al tampone è una cosa importante per il singolo cittadino. I disguidi che abbiamo avuto stamattina all'inizio sono disguidi banali che succedono sempre quando uno parte con delle cose così importanti, come abbiamo fatto noi. E abbiamo notato che molta gente arriva senza il modulo, quindi è importante che i cittadini arrivino col modulo che guadagniamo tempo. Quindi cercheremo di parlare anche con le amministrazioni comunali per mettere a disposizione in più location possibile i moduli. Oltre che, come abbiamo detto, da noi in comune oppure nelle farmacie, vedremo anche che hanno pensato anche l'edicole. Insomma, vediamo come fare per mettere a disposizione in più moduli possibili per migliorare la fila. Volevo ringraziare tutti gli operatori dell'Asur e anche la Regione Marche tramite l'assessore Saltamartini e tutta la Giunta per questa grande operazione di screening di massa. È un'operazione unica in Italia, pertanto l'invito che faccio come consigliere regionale è quella di partecipare più numerosi possibili a Pesaro, a Rubino e poi nelle prossime settimane anche in tutti gli altri comuni. Quindi ringrazio l'Asur che sta coordinando insieme al comune tutti gli operatori di protezione civile e l'invito veramente che faccio a tutti è di partecipare.